Scemia! Non c'è! Scemia! C'è l'acqua! Non si può andare all'oceano! E' pericoloso! Ma certo! Si può mettere i menzioni subacque! Davvero? Certo! Metto questo e questo è il piede delle ciabatte. Un papero! Sono un papero! Qua! 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 Sì! 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 Fai attenzione! Ci sto! Bene osso! Andiamo! Ok! Mmm! Mmm! Una foto! Certo! E' a direzioni sempre nuove! Certo! oh no 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 oh no 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 che male naso che me sia fatto si è fatto mare il naso Fammi vederlo Oh Mi hai punto il naso Ha fatto Sì l'hai fatto il naso E va bene Andiamo Ok Hey there sweetie How old are you? Sixteen Eighteen You're first Mom I like where this is going Giggity giggity giggity